Non spegnere i riflettori sulla vertenza di Alifluids lasciando accesa la fiammella della speranza per una soluzione positiva per lo stabilimento di Canosa Sannita. E' questo il significato simbolico della fiaccolata che ieri sera ha attraversato le strade del paese organizzata dai lavoratori dello stabilimento biomedicale Teatino, 110 impiegati nella produzione di sacche per la dialisi che da settembre potrebbero ritrovarsi senza lavoro perché la Fresenius, la multinazionale tedesca proprietaria dell'impianto, ha deciso di chiudere l'opificio abruzzese. Il sindaco di Canosa Sannita Lorenzo Di Sario però si dice ottimista anche perché l'azienda tedesca ha annunciato che ci sono compratori interessati al sito di Canosa. La riunione che era prevista per giorno 13 aprile a Roma presso il MIS e il Ministero dello Sviluppo Economico. Questa riunione è stata rinviata a giorno 23 aprile per dare la possibilità di partecipare a questa riunione anche al boarding internazionale di Fresenius. Quindi penso che se queste persone si scomodano probabilmente dovranno venire per portare una notizia positiva. Quella della di Elifluiz è una lenta agonia. La produzione è passata da 4 milioni di sacche nel 2011 quando si era a pieno regime alle 600 mila attuali. Negli ultimi mesi si è anche acuito lo scontro tra maestranze e proprietà dopo la sospensione di alcuni lavoratori in seguito alle manifestazioni di protesta fuori dai cancelli della fabbrica. L'avvertenza di Elifluiz è arrivata anche sui tavoli della regione Abruzzo e nelle aule parlamentari con le interrogazioni al mese del deputato di SEL Gianni Melilla e del senatore di Forza Italia Antonio Razzi. Ma settembre è sempre più vicino e le occasioni per ridare lavoro e dignità agli operai della fabbrica tiatina iniziano a scarseggiare. Insomma voi volete continuare a lavorare, questo è chiaro. Ma io penso che ad oggi l'unico obiettivo è quello di continuare a lavorare ma non 20, 30, 40 persone. L'obiettivo è quello di rimanere tutte e 110 dentro. Anche perché è la lotta a parte per i lavoratori ma anche per il mio paese. Io sto lottando per un posto di lavoro nel mio paese, cioè questo è un paese di 1300 abitanti, cioè muore questa fabbrica, muore il paese.